Virgilio ha appena spiegato a Dante le ragioni per cui valga la pena intraprendere il viaggio della vita. Il sommo poeta si è rimesso in cammino, quando si trova innanzi ad una porta, sulla cui sommità c'è una epigrafe con questi versi incisi. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina apotestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fuor cose create se non eterne, e io eterno duro. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Dante vede sulla sommità dalle porta queste parole di colore oscuro, per cui vuole sapere da Virgilio le ragioni, il significato di quelle parole. Quelle parole hanno un sapore difficile da comprendere, e anche terrificante per Dante, perché il poeta ha compreso che entrando da quella porta non potrà più uscire. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Al contempo Dante ha letto che l'inferno è stato creato da Dio Uno e Trino. Colui che è sommo amore, che è l'amor che muove il sole e altre stelle, ha creato anche l'inferno. L'inferno non è stato realizzato dal diavolo, perché il diavolo, come dice l'etimo del termine, è capace soltanto di dividere e di distruggere. Dio ha lasciato l'inferno per coloro che fino all'ultimo desiderano non essere abbracciati dall'infinita misericordia divina. Dio è un padre permuroso che ci vuole liberi e al contempo salvi. Libertà e salvezza sono due prerogative fondamentali per l'essere umano. E Dante capirà, comprenderà la misericordia di Dio nel terzo canto del purgatorio, esattamente dopo una cantica, quando si renderà conto che la misericordia di Dio ha delle braccia così ampie, così grandi, che volentieri abbraccia tutte quelle persone che si lasciano abbracciare da lei. Dante è preso dalla paura dinanzi a quella epigrafe e ancora non vorrebbe partire. Non sono sufficienti dei discorsi, non basta una predica per mettere in azione l'uomo. Non sono sufficienti neanche le ragioni per cui conviene intraprendere il viaggio della vita. La pedagogia di Dante è geniale. Occorre una presenza umana, occorre un maestro, una guida, qualcuno che ti prenda per mano con lieto volto e che ti metta dentro alle secrete cose. Sono dei versi bellissimi che ben descrivono con efficacia espressiva quella che è l'educazione per Dante. Avviene l'educazione quando una persona viene introdotta alla realtà con una presenza lieta e piena di speranza che ti fa capire che esiste un percorso, c'è un senso, c'è un cammino. Esiste una felicità che l'uomo raggiungerà alla fine del viaggio perché il destino è positivo. Come scrive Sant'Ignazio di Antiochia, si educa bene con quel che si dice, si educa meglio con quel che si fa, ma si educa ancora meglio con quel che si è. Colui che ha il compito di educare deve innanzitutto educare se stesso perché non si può offrire all'altro se non quello che si è. E l'altro guarda il nostro sguardo e osserva quello che noi guardiamo e conosce e comprende dove c'è il nostro cuore, dove c'è il nostro tesoro, quale tesoro noi abbiamo nell'animo. E come scrive anche Sant'Ambrogio nei sette dialoghi con Ambrogio. Non pretendete, scrive Sant'Ambrogio riguardo all'educazione dei figli, di disegnare il loro futuro. Siate fieri piuttosto che vadano incontro al domani con slancio, anche quando sembrerà che si dimentichino di voi. Sant'Ambrogio sottolinea l'importanza di questo entusiasmo e al contempo mette in luce come i ragazzi, i giovani non si devono spaventare della fatica che possono trovare lungo il cammino. Loro devono percorrere la strada senza paura, senza spavento. Anche quando questa strada fa qualche volta soffrire, perché è insopportabile una vita vissuta per niente. Più di mille raccomandazioni soffocanti saranno aiutati dai gesti che vivero in casa. Affetti semplici. Il Sant'Ambrogio sottolinea come è stato più utile vedere un gesto di carità da parte della madre più che tanti discorsi sulla carità. Così come è stato meglio per lui vedere il gesto del padre che ha preso le difese di una persona che era stata accusata ingiustamente. Più che sentire mille discorsi sulla giustizia. Conclude Sant'Ambrogio con queste parole. I vostri figli abidino la vostra casa con quel sano trovarsi bene che ti mette a tuo agio e ti incoraggia anche ad uscire di casa perché ti mette dentro la fiducia in Dio e il gusto di vivere bene. Ecco che Sant'Ambrogio sottolinea come la vita sia un viaggio e anche Dante dopo che è stato preso per mano da Virgilio intraprende il suo viaggio. E non a caso troverà come prime anime quelle degli ignali. Quelle anime che non hanno mai vissuto. Quelle anime che non hanno mai scelto per il bene e per il male. Ma di questo parleremo la prossima volta.